Il cittadino della stazione San Lorenzo era stato allertato dalla madre della studentessa, una fuorisede carabrese, preoccupata perché la ragazza non rispondeva da diversi ore al telefono. La giovane si trova in un momento di particolare fragilità e in cura per problemi psicologici e da poco si è lasciata con il fidanzato. I cittadini di San Lorenzo, dopo la tragica morte della sedicenne di Sire Mariottini nell'area abbandonata di Via dei Lucani, chiedono maggiore sicurezza. Alle famiglie il consiglio uggendino è chiedere di parlare spesso con i loro figli, con le esigenze e soprattutto guardare su quali sono gli effetti che l'attivale assunzione di sostanze possono comportare.